Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. In apertura del notiziario ci occupiamo del vertice sulla sicurezza che si è svolto a Gela, la zona industriale a seguito dei numerosi furti che si sono registrati nell'area. Gli imprenditori elaborano strategie per aumentare i livelli di sicurezza. C'eravamo anche noi, vediamo. Vertice sulla sicurezza all'asi di Gela per trovare percorsi e strategie che consentano un innalzamento del livello della sicurezza nell'area dell'agglomerato industriale. Alla luce dei gravi furti che si sono verificati all'interno della stessa, gli imprenditori discutono iniziative da intraprendere. Alcune tra tante, l'istituzione di accessi controllati con barriere automatiche e l'istituzione di un servizio di guardiania con telecamere con oneri a carico delle aziende insediate nella zona industriale. Intensa è partecipata alla riunione durante la quale è emersa sì una inevitabile preoccupazione, ma allo stesso tempo voglia di reagire immediatamente e andare avanti con azioni sinergiche per migliorare la sicurezza delle aziende. Si può intervenire, si può migliorare il livello di sicurezza apponendo del regolamentante, ecco gli accessi nell'agglomerato industriale. Già nel nord-est abbiamo avviato un accordo con le imprese, nel senso che le imprese provvedono a fare una loro guardiania con oneri al loro carico e noi come IRSAP metteremo una regolamentazione con delle barre per in qualche modo regolamentare gli stessi accessi. E la stessa cosa stiamo cercando e abbiamo cercato di attivarla e stamattina ho avuto il conforto delle aziende del nord-1 nell'agglomerato nord-1. Dunque vigilanza e illuminazione sono i due punti che sono stati scandagliati maggiormente e che dovrebbero intanto arginare il fenomeno. Sì, sull'illuminazione noi daremo in consegna all'impresa i lavori per il ripristino dell'illuminazione e nello stesso tempo avvieremo questo rapporto con le aziende per verificare anche la possibilità di questo servizio di guardiania e quindi anche della regolamentazione degli accessi. Che non si abbassa la guardia, non ci si lascia intimorire e si va avanti. Assolutamente, il percorso che abbiamo avviato stamattina è sintetizzabile in uno slogan che ciascuno faccia la sua parte, l'IRSAP che io rappresento per prima. Alla riunione era presente anche il presidente dell'associazione anti-racket, anti-usura, Gaetano Giordano, Renzo Caponetti che esprime la propria interpretazione sui fatti criminosi relativi ai furti nelle aziende. Non siamo tornati indietro dieci anni a questa parte, assolutamente. I risultati ci sono. Come ho detto già tante volte, lo ripeto, lo ribadisco ancora una volta, non si tratta di racket e dell'estorsione, non si tratta assolutamente di cavallo di ritorno, ma si tratta semplicemente di furti che hanno la polizia, le forze dell'ordine, tutti sicuramente hanno individuato. Tant'è che giorni fa proprio la polizia ha scoperto proprio sul fatto alcuni ladri che stavano per portare, anzi non sono riusciti a portarli, ma stavano per portarli. Quindi qui si devono organizzare come effettivamente è stata una riunione veramente costruttiva, intensificare ancora di più il sistema di vigilanza, anzi farlo perché assolutamente non c'è, ma soprattutto anche l'illuminazione perché qualche telecamera che funziona, qualche telecamera che funziona, non avendo l'illuminazione non può percepire il viso oppure eventuali target di qualche mezzo che è entrato. Le strategie che si possono mettere in campo naturalmente devono trovare anche la collaborazione delle forze dell'ordine. E quella c'è stata sempre, le pattuglie girano, girano le pattuglie della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, ma ci sono, quindi le istituzioni sono presenti. Ci tratta di ancora risolvere, di oleare qualche altro ingranaggio qui che effettivamente stanno cercando di risolvere. Lei farà anche la trade union tra l'organizzazione degli imprenditori e invece le forze dell'ordine, a breve una riunione, un incontro con il questore? Sì, il questore ci ospiterà con tanto piacere presso l'aulomagna del commissariato di Gela. Tragedia ieri a Gela, destino crudele per una pensionata di 65 anni, Giuseppa Aquinato. La donna stava salendo le scale di uno stabile di Via Matisse nel quartiere Cantina Sociale quando ha perso l'equilibrio battendo violentemente il capo. Le condizioni sono apparse subito gravi, la corsa in ospedale è stata frenetica, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. Una vita strappata a causa di un banale incidente in una domenica che doveva essere di festa. Apriamo un'ampia pagina dedicata a Niscemi. Domani il Consiglio Comunale deciderà sull'emigrazione a Catania. Ieri incontro all'aperto in piazza. Il Comitato per lo sviluppo dell'area gelese è sicuro che l'assise civica dirà di sì. Vediamo. Giorno clu domani per Niscemi. All'evento infatti il Consiglio Comunale deciderà se dire sì alla città metropolitana di Catania o rimanere con la Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta. Gela e Piazza Merina hanno già detto sì. E ieri, promosso dalla consulta di Niscemi in collaborazione con il Comitato Liberi Consorzi di Niscemi, il Comitato per lo sviluppo dell'area gelese ed il Comitato Pro Referendum di Piazza Merina, si è svolto un incontro molto partecipato al quale hanno preso parte i sindaci di Gela e di Piazza Merina e diversi consiglieri ed assessori delle due città. Domani per Niscemi è un grande giorno perché domani Niscemi decide il futuro per l'intera comunità niscemese. Domani ci sarà la delibera di adesione alla città metropolitana di Catania, altro non si tratta che riconfermare quello che Niscemi ha già scelto con la precedente delibera e che ha fatto confermare ai cittadini niscemesi attraverso un referendum confermativo. Ci aspettiamo ovviamente che ci sia un'ampia partecipazione, un'ampia maggioranza dal punto di vista di adesione dei consiglieri comunali di Niscemi e speriamo che domani anche Niscemi, come ha già fatto Gela e Piazza Merina, possa festeggiare questo grande cambiamento. Durante l'intervento di ieri Franzone ha illustrato l'iter delle due leggi che hanno portato le comunità a scegliere e poter riconfermare una scelta già fatta. Inoltre ha invitato i cittadini niscemesi a partecipare al Consiglio Comunale che domani delibererà l'adesione alla città metropolitana perché la democrazia, dice Franzone, funziona solo se partecipata. I comuni vicini a Niscemi sono quasi tutti all'interno della città metropolitana di Catania. C'è Gela, c'è Piazza Merina, ma c'è anche Caltagirone, San Michele Canzeria, Mirabelle e Bacchere e via dicendo. Questo significa poter fare una programmazione unitaria e poter mirare uno sviluppo unitario dell'intera area. Diversamente per Niscemi significherà rimanere un'isola all'interno della città metropolitana di Catania e ovviamente questo comporterà non avere più nessun aiuto da parte di Caltanessette perché sarà marginalizzata come l'estrema periferia di quel territorio. Mentre nella città metropolitana ci saranno disponibilità più fondi perché appunto è una città metropolitana ma ci sarà più forza per poter insieme proseguire per uno sviluppo armonico del territorio. Luigi Igualato, portavoce del Comitato Liberi Consorzi di Niscemi, durante l'intervento di ieri ha incentrato il suo discorso ad un'appartenenza alla Sicilia orientale di come Niscemi, città d'alta vocazione agricola pur avendo un'eccellenza nel campo agricolo, il carciofo dunque di Niscemi ad oggi non abbia il riconoscimento DOP mentre nell'area catenese siano decine i prodotti riconosciuti con marchi DOP e IGP. Il sindaco di Piazza Merina, Filippo Milodi, ha specificato che queste città hanno vocazioni diverse Gela, quella industriale marinara, Piazza Merina quella turistico-culturale, Niscemi quella agricola e che assieme con i 130.000 abitanti del territorio permetteranno alla città metropolitana di Catania di essere la quinta in Italia per popolazione ed importanza. Il presidente della consulta di Niscemi, Catano Buccheri, ha esortato il sindaco di Niscemi, Francesco Larosa a prendere una posizione chiara e a non comportarsi da arbitro in questa importante e storica iniziativa che coinvolge la comunità niscemese. E anche il comitato Gelensis Populus è sicuro che alla fine Niscemi dirà sì all'emigrazione a Catania. Sentiamo. Liliana Bellardita, domani è il giorno a club per Niscemi perché il Consiglio Comunale ha deciso finalmente di decidere e domani dunque si potrebbe configurare l'emigrazione di Niscemi alla città metropolitana di Catania così come già fatto da Gela e Piazza Merina. Domani alle 20 presso l'aula consigliare del Consiglio Comunale di Niscemi si terrà finalmente questa seduta. Qualcuno ha chiesto anche il rinvio della seduta del Consiglio Comunale perché probabilmente domani alcuni consiglieri non saranno presenti. Sappiamo di questa richiesta della consulta di Niscemi che a seguito dell'assenza di una parte dei consiglieri comunali per ragioni varie stanno tentando di chiedere lo spostamento di questa seduta. Ne sapremo ovviamente domani perché anche in ordine a questo penso che si deciderà domani. Anche così come è accaduto a Gela e a Piazza Merina domani il voto sarà palese. Si presume che sia palese. Non ci sono ragioni perché non possa essere così. La scelta del voto palese e del voto segreto è regolamentata per cui riteniamo che non ci possano essere ragioni che possano giustificare la scelta di un voto segreto. Saranno chiamati all'appello 20 consiglieri per aderire a Catania bisognerà maggioranza dunque 11 su 20. L'articolo 44 prevede che la delibera di adesione passi con la maggioranza assoluta. la maggioranza assoluta su Niscemi sono di 11 consiglieri su 20. Ieri per parlare di Niscemi che deve aderire alla città metropolitana di Catania si è svolto anche un comizio pubblico invitati dal sindaco di Gela, di Piazza Merina, diversi comitati, consiglieri comunali. Si è registrato un fuori programma perché siamo stati ufficialmente invitati da un consigliere comunale che fa parte della consulta di Niscemi il quale ci aveva anche chiesto di intervenire dando il nostro contributo in ordine all'attività che Gelensis Populus aveva svolto su Gela ma anche su Niscemi alla luce anche voglio dire delle ultime sensibilizzazioni che avevamo fatto di ripasso anche alla consulta, ai componenti della consulta, solo che nel momento in cui siamo saliti e ci siamo avvicinati al moderatore per registrarci ai fini dell'intervento c'è stato espressamente detto che Gelensis Populus non poteva intervenire perché la consulta aveva deliberato espressamente che Gelensis Populus non poteva intervenire. Però al di là delle polemiche il vostro obiettivo, l'obiettivo principale è che Niscemi aderisca a Catania. Così come il nostro impegno è stato per Gela perché diretti interessati per la situazione di Gela, lo stesso impegno l'abbiamo messo a Piazza Armerina, abbiamo portato il frutto anche del passaggio di Piazza Armerina e altrettanto abbiamo fatto e continueremo a fare nonostante questo piccolo fuori programma su Niscemi. Intanto il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, rassicura che tutte le delibere delle comunità che hanno deciso il passaggio alla città metropolitana etnea sono valide a tutti gli effetti. Sentiamo. Non ci sarà nessuna questione da risolvere oltre per quanto riguarda le contestazioni del governo Renzi verso la legge regionale siciliana sui liberi consorsi. La vicenda non ha inficiato e non avrà alcuna ripercussione sulla delibera assunta dal comune di Gela relativa all'adesione di Gela alla città metropolitana di Catania. Lo ha detto il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta. Voglio precisare che questo non incide affatto sulla vicenda di Gela, non c'entra assolutamente nulla perché quella parte non è stata imbugnata, quindi voglio dire, siccome ci sono create polemiche della serie, allora è imbugnata, non abbiamo fatto nulla, non è vero niente. I risultati del referendum sono validi, le deliberazioni comunali in materia sono valide, si tratterà di fare solo il decreto attuattivo che verrà fatto, calato probabilmente anche nella legge che stiamo facendo in aula, nelle modifiche che stiamo portando. La questione principale rispetto alla legge del Rio è basata sul voto punterato, cioè il fatto se ogni comune debba avere lo stesso diritto di voto oppure si debba avere più voti in relazione al numero degli abitanti. Su questa è stata una scelta del Parlamento, non del governo regionale, la nostra proposta era il voto punterato. Andremo in aula accogliendo una maggior parte dei contenziosi sollevate dal governo, su alcune riteniamo di avere ragione, quindi laddove abbiamo ragione non si capisce perché dovremmo cambiare impostazione, però credo che alla fine questo porterà all'abolizione del conflitto. Voglio dire anche che le imbugnative sono una cosa normale, per indenterci, noi abbiamo avuto imbugnati nel 2003, nel 2014, nel 2015 cinque leggi, ma anche la regione toscana, che è la regione di Renzi, ha avuto imbugnate cinque leggi. Non è che sono capricci, è normale che la regione ha un suo Parlamento, lo Stato ne ha un altro, è chiaro che a volte nascono dei conflitti, però la Costituzione prevede la soluzione dei conflitti, che è o l'accordo oppure il conflitto di fronte alla Corte Costituzionale. Noi stiamo lavorando per l'accordo. Continuano a Gela gli incontri con vari tour operator promossi dall'assessore comunale alla cultura Francesco Salinitro. L'offerta turistica della città piace agli operatori del settore e a gruppi di visitatori arrivati anche lo scorso fine settimana in città. Museo archeologico, centro storico e mura Timoleontè sono state tra le tappe più apprezzate dalla comitiva proveniente dalla Lombardia. Inserire il patrimonio gelese nei circuiti internazionali del turismo è il nostro obiettivo, ha detto l'assessore Salinitro, che ha donato agli ospiti la riproduzione delle monete di conio gelò del gelese Roberto Stascone. Ha suscitato interesse anche la brochure illustrativa della città, con la grafica di Rocco Cuvato realizzata grazie ad Archeoclub Confcommercio. Gli ultimi tour operator arrivati a Gela si occupano del mercato italiano, spagnolo e nord-europeo. L'incontro si è avvalso della valida collaborazione di Elisa Tuzzetti, docente di lingua inglese in servizio all'istituto scolastico Ettore Romagnoli. Altri contatti fissati dall'assessore sono previsti per i prossimi giorni. Si chiude domani presso il centro visite del biviere di Gela il corso di formazione gratuito La sostenibilità nel paesaggio serricolo del Golfo di Gela, organizzato dall'Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente nell'ambito del progetto europeo Life Leopoldi. Gli incontri hanno un approccio multidisciplinare e pratico e sono rivolti in particolar modo a tecnici delle amministrazioni, architetti, agronomi, geologi, operatori del settore agricolo. Domani sarà trattato il tema le valutazioni ambientali nelle aree della rete Natura 2000. Saranno rilasciati i crediti formativi in relazione agli enti di appartenenza. Stati Generali della Società Civile di Gela alla decima edizione. Il 24 e il 25 ottobre presso il Palazzo Ex Convitto Pignatelli, le associazioni di volontariato incontreranno la città. L'iniziativa rappresenta un importante momento di incontro e di formazione per aprire scenari innovativi di progettazione sociale e partecipata. I lavori inizieranno sabato 24 ottobre alle 9. Per l'occasione sarà a Gela il fondatore dell'Arsenale della Pace, Ernesto Olivero, per un confronto con gli studenti e volontari della città e una riflessione sull'emergenza sociale derivante dai numerosi attentati incendiari di autovetture che si ripetono quasi ogni notte. L'iniziativa è promossa dal coordinamento delle associazioni di volontariato di Gela, dal Movi, dalla Casa del Volontariato, dal CESVO, con il patrocino gratuito del Comune. Si terrà il prossimo 24 ottobre alle 9.30 nella Sala Riunioni del Museo Diocesano di Piazza Armerina di fronte alla Cattedrale l'Annuale Conferenza Diocesana del Servizio per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa. L'incontro sarà presieduto dal Vescovo Monsignor Rosario Gisana. Sarà l'occasione per comunicare i risultati ottenuti l'anno scorso e dibattere sulle azioni da concordare e intraprendere nell'immediato. Una festa per la vita è l'iniziativa promossa dal Comitato di Quartiere Cantina Sociale di Gela in collaborazione con il Comune, la Parrocchia San Rocco e la Fida Sadas. Si terrà sabato 17 ottobre alle 21 nel piazzale adiacente al Campetto San Rocco. Previsti una serata danzante, una mostra artigianale e la gara della più bella torta. Per informazioni e iscrizioni gratuite 346 3649 833 Settima edizione Green Run Corri nel Parco di Montelungo a Gela è prevista per venerdì 16 ottobre, appuntamento alle 9. L'iniziativa è dell'Associazione Green Sport Promotion diretta da Giuseppe Veletti. Si tratta di una corsa promozionale ludico-ricreativa di valorizzazione, conoscenze e fruizione del parco. Si terrà oggi alle 19.30 presso la Casa del Volontariato di Gela la presentazione del libro La Sedia di Lulu. Sarà illustrato anche il primo corso di Pet Therapy. L'iniziativa è della Lida Gela assieme all'Associazione Chiara Mille e amici di Milta. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con 10 domande 10 ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà l'assessore alle politiche comunitarie e alle attività produttive del comune di Gela, Chetti, Damante. Le repliche sono previste alla mezzanotte e la domenica successiva alle 18. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. Restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Parliamo di sport, calcio. Già si vede la cura del nuovo tecnico del Gela, Totò Bruculeri. Ieri la formazione bianca-azzurra ha battuto sonoramente per 4-1 il Camarat. I gol sono stati realizzati tutti nella ripresa dopo un primo tempo non ad altissimi livelli. Sentiamo. La furia del Gela si abbatte sugli aggrigentini del Camarat che perdono in casa dei gelesi per 4-1. Tutto troppo facile per la formazione di casa che grazie all'home in più per quasi tutta la gara riesce ad averla meglio sulla squadra di mister restivo grazie alle reti tutte nel secondo tempo di Alma, Nassi, Mincica sul calcio di rigore e infine Campanaro. Agli ospiti solo il gol della bandiera messa a segno da Privitera quando ormai i giochi erano belli che fatti. Inizia nel migliore dei modi così la nuova avventura del tecnico Totò Bruculeri sulla panchina del Gela. Per l'allenatore di grotta è il secondo successo di fila dopo la vittoria per 1-0 in settimana contro la Pro Favara in Coppa Italia. 3 su 3 invece i successi messi a segno in campionato davanti al pubblico di casa per la squadra del presidente Angelo Tuccio che dimostra ancora una volta che il prestio è un fortino invalicabile. Nella prima frazione di gioco il Gela fa la partita ma senza fortuna sottoporta. La gara si mette in discesa al decimo del primo tempo quando il portiere del Camarat esce a valanca su Alma lanciato in porta meritando così il cartellino rosso. In 11 contro 10 i padroni di casa dovrebbero avere vita facile ma non è così. Il Camarat si difende bene e non rischia più di tanto. La seconda parte della gara però è tutto un fuoco d'artificio gelese che spegne sul nascere nei primi 9 minuti di gioco le infelebili speranze degli ospiti. La prima marcatura la sigla Alma dopo appena una manciata di secondi la fischia d'inizio. Nemmeno il tempo di metabolizzare il vantaggio del Gela che il Camarat aveva ancora una volta sotto subendo la rete del bomber Maurizio Nassi. Altri due giri di orologio e il Gela cade il tris sul calcio di rigore. Alma viene stesa in aria e l'arbitro Carpenzano assegna la massima punizione con mincica che la dischetta non sbaglia. 3-0 e gara praticamente chiusa d'inizio della ripresa. La reazione degli ospiti arriva tardi, l'unica conclusione sullo specchio della porta difesa da Pandolfo con Privitera che la mette dentro punendo una disattenzione della retoguardia gelese. A tempo Roma è scaduta e con le squadre Roma è stanche arriva la quarta rete del Gela questa volta con il difensore Campanaro che dimostra sempre più il suffiuto del gol mettendo dentro di prepotenza la quarta e definitiva rete del match che decreta la fine delle ostilità. La partita penso giocata già col piglio giusto sin dalle prime battute forse magari siamo stati anche avvantaggiati dal fatto che magari loro sono rimasti in 10 uomini nell'esplosione del portiere per cui ci ha avvantaggiato diciamo sotto questo punto di vista però anche nel primo tempo abbiamo creato tante azioni di gol e non siamo stati tanto cattivi come dovrebbe essere però penso che sono molto fiducioso, c'è tanto da lavorare ormai lo sappiamo, è inutile mettere il dito nella piega cioè parlare sempre delle stesse cose mi sembra un discorso prettamente dietrologico cioè io non ci voglio andare, io penso al presente con grande posizione per il futuro. L'importante è aver vinto, aver portato a casa i tre punti poi se arriva il gol ben venga però l'importante erano i tre punti oggi abbiamo dimostrato che ci siamo, siamo vivi e vogliamo cercare di ripetere questo tipo di partite, questo tipo di atteggiamento anche in trasferta e credo che già la domenica possiamo incominciare a dare conferma a chi ci guarda e a chi ci sostiene. Abbiamo fatto una buona prestazione i compagni aiutano anche i giovani come me che non fanno pesare molto la verità è che sono under quindi siamo un gruppo bello compatto. E nel campionato di promozione continua la cavalcata dell'Atletico Gela i giallorossi hanno conquistato il terzo successo di fila vincendo facilmente a Ragusa contro la New Team per 3-0 adesso in classifica la squadra allenata da Peppe Misiti ha agguantato la terza posizione ad un solo punto di distacco dal secondo posto gioca bene ma perde in casa il Macchitella contro la capolista in battuta Nisse i ragazzi di Fabio Comandatore sprecano l'incredibile e vengono puniti. Vediamo. Il Macchitella Gela domina ma la Nisse a portare a casa l'intera posta in pario. Una partita stregata quella di sabato per la formazione bianco-rossa che sciupa una miriade di occasioni da rete e viene punita dall'unico tiro in porta dei biancoscudati apparsi davvero sotto tono. A punire la squadra di Fabio Comandatore la rete di Di Maria nella ripresa bravo a farsi trovare pronto sulla corta respinta del portiere Camiolo. Si morde dunque le mani il Macchitella Gela che davanti al pubblico di casa non riesce ad avere la meglio sulla capolista. Per i biancoscudati quinta vittoria di seguito buona comunque la prestazione degli aquilotti usciti tra gli applausi dei propri sostenitori. È un periodo che ci sta girando male purtroppo dall'attere di Colgela fino dopo Ragusa e poi la partita di oggi contro la Nisse dove abbiamo solamente giocato noi. purtroppo vince chi butta la palla dentro è l'unica occasione da parte della Nisse hanno fatto gol. Noi non posso dire niente ragazzi se c'è stata una squadra in campo penso che c'è stata solamente la nostra sotto tutti i punti di vista tecnico, tattico, atletico cioè non è secondo me una partita incommentabile perché c'è stata solo una squadra in campo. Appunto sono queste le partite che possono fare forse quello scatto mentale per vincere le partite con più cattiveria? Sì, credo che ci siamo confrontati con una squadra che deve vincere il campionato ambiziosa non ho visto una squadra da parte della Nisse ho visto delle individualità ma per il resto non ho visto una squadra che può vincere il campionato e ammazzare il campionato hanno fatto queste cinque partite cinque vittorie e credo che ci avranno qualche individualità in più rispetto alle altre squadre però alla lunga penso che ne pagheranno. La Nisse continua a vincere ma oggi è stata una partita veramente sofferta. Sofferta, brutta, non giocata bene non meritata sicuramente perché se c'era una squadra che meritava di più era sicuramente il Macchitello. Non lo so, probabilmente questa classifica ci sta un pochino danneggiando sotto il profilo psicologico qualcuno probabilmente pensa di essere già arrivati ma noi dobbiamo giocare gara dopo gara e quindi se in questo momento ci ritroviamo là è perché sicuramente non abbiamo fatto di queste prestazioni perché altrimenti non avremmo vinto quattro partite consecutive. Quindi oggi è stato sotto il profilo del risultato Io prendo per buono perché abbiamo guadagnato tre punti in un campo difficile contro una buona squadra che corre dal primo fino al novantesimo però di contro abbiamo fatto due o tre passi indietro per quanto riguarda il gioco. Bando di ricerca e selezione di tre operatori socioassistenziali due di sesso maschile ed uno di sesso femminile lo ha indetto l'istituto comprensivo Gela e Butera diretto da Agata Guelli le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del prossimo 19 ottobre non farà fede il timbro postale per informazioni bisognerà rivolgersi al numero di telefono 0933 83 52 76 è Sangue del mio sangue il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela sono due gli orari di rotazione della pellicola 18.30 e 21.30 con l'informazione cinematografica è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione a tutti voi un buon inizio settimana a tutti voi un buon inizio